Buongiorno e benvenuti su meteogiuliacci.it. Dopodomani, giovedì 18 aprile, sarà la giornata più calda di questa parentesi primaverile all'insegna del tempo stabile soleggiato. Poi venerdì il tempo inizierà a peggiorare nel pomeriggio sera per l'arrivo di una perturbazione dal nord Europa, dalle isole britanniche, in particolare che sarà seguita da una goccia fredda. Questa goccia fredda tra sabato e lunedì attraverserà tutta l'Italia, determinando un peggioramento del tempo, soprattutto a sfondo temporalesco, e un sensibile calo delle temperature. Vediamo l'immagine del satellite virtuale. Vedete ancora l'Italia, il Mediterraneo, con il cielo praticamente sgombro da nubi proprio per la presenza dell'anticiclone nordafricano. Il tempo allora per la giornata di giovedì vedrà ancora una giornata radiosa su tutta l'Italia, con cielo sereno, soprattutto sulla Valpadana, sulle regioni centro-merdionali e sulle isole maggiori. Qualche nube in più potrà soltanto interessare le regioni alpine e prealpine, soprattutto durante le ore più calde del giorno. Per quanto riguarda le temperature saranno in ulteriore lieve aumento, su quasi tutta l'Italia si supereranno i 22-23 gradi, con qualche punta anche di 26 gradi sulle zone interne della Toscana, sulla pianura padana centro-orientale e nelle valli alpine. Concluso, vi ringrazio per l'ascolto, ancora una buona giornata.